L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni Soci del Conami ha approvato le nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione. Rispetto alla precedente Assemblea non si è registrata nessuna novità e nessuna sorpresa in merito ai nominativi individuati e pertanto sono stati nominati all'unanimità Carlo Baseggio, che fu presentato dal primo cittadino di Faenza Giovanni Malpezzi in rappresentanza dell'Unione della Romagna Faentina, Mirko Minghini, già presente nel CDA del Conami e proposto dal sindaco di Castel San Pietro Fausto Tinti e Leonardo Zanetti proposto dal Comune di Imola. Il quarto componente del CDA doveva essere Chiara Berti, la quale però nei giorni scorsi aveva ritirato la propria disponibilità. Per questo motivo al suo posto il Comune di Imola, rappresentato dal commissario straordinario Nicola Izzo, ha presentato la candidatura dell'avvocato ed ex sostituto procuratore di Verona Maria Cristina Motta, la quale, essendo il componente più anziano del CDA, farà le veci del presidente nominato Fabio Bacchilega fino a quando questo, tra qualche mese, terminerà il suo mandato alla guida della Fondazione e Cassa di Risparmio di Imola. Al termine dell'Assemblea, il primo ad uscire dalla sede del Conami è stato il sindaco di Castel Bolognese, Luca della Godenza, il quale, ha sottolineato come il consorzio delle aziende municipalizzate, sia un asset strategico importante per i comuni, auspicando inoltre che con queste nomine votate all'unanimità il nuovo CDA possa iniziare a lavorare quanto prima.